Il lupo e i sette capretti. C'era una volta una capra che allevava da sola i suoi sette piccoli capretti. Essa li amava teneramente ma le davano molte preoccupazioni perché erano spesso disubbidenti e sbadati. Inoltre temeva sempre per la loro vita perché questi piccoli imprudenti pensavano solo a giocare sgambettando senza tregua ai margini della foresta là dove si aggirava il loro nemico di sempre e il più sanguinario il grande lupo. Un giorno prima di andare nel bosco a cercare freschi germogli d'arboscelli per il pasto della sera la capra radunò i suoi piccoli per metterli di nuovo in guardia. Devo assentarmi per alcune ore non lasciate entrare nessuno dentro la casa se fate diffidenti perché il lupo è astuto può falsare la sua voce e mascherare il suo aspetto ma voi potrete riconoscerlo a colpo sicuro dalle zampe che sono nere. Saremo saggi e prudenti promisero i capretti non apriremo la porta a nessuno se non mostrerà le zampe bianche. La capra se ne partì abbastanza tranquilla qualche minuto dopo alcuni colpi furono battuti alla porta. Aprite aprite miei cari piccoli è vostra madre che ha dimenticato il suo scialle e le sue cesoie. Uh uh dissero scherzosamente i sette capretti abbiamo riconosciuto la tua brutta voce brutto diavolo di un lupo e non ti apriremo la porta. Il lupo se ne andò via umiliato ma lungo il cammino comperò un pezzetto di zucchero filato che succhiò per addolcire la sua voce rauca. Ritornò di soppiatto e da dietro la porta disse con una voce melliflua aprite miei cari figli è la vostra mamma che porta dolciumi per voi. Purtroppo per lui il lupo sbadato aveva posato le sue zampe nere sull'orlo della finestra e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente uh uh signor lupo zampe nere ti sei tradito. Contrariato e affamato il lupo concepì un nuovo inganno corse zuppicando dal fornaio e gli disse mi sono ferito mettetmi un impiastro di pasta cosparso di farina mi allevierà il dolore. A quei tempi era un rimedio abituale pertanto il fornaio non sospettò i neri disegni del lupo che ripartì con la zampa destra imbiancata come desiderava. Ingannati dalla voce mielosa e dalla zampa bianca i poveri capretti alla fine aprirono la porta. Apparve il lupo terribile con la schiuma alla bocca tutto nero con fuori una grande e avida lingua rossa. Aiuto soccorso belarono i poveri piccoli saltando sotto la tavola nel letto nell'armadio o nella vasca da bagno nella speranza di sfuggire all'orribile bestia. Ma il lupo eccitato e morto di fame li trovò tutti e li inghiottì in un boccone uno dopo l'altro con il pelo e gli zoccoli. Uno solo di loro scampò alla carneficina perché si era nascosto nell'orologio a pendolo rannicchiato sotto il pesante bilanciere di rame. Dopo poco tempo mamma capra bussò alla porta e trovando la sua casa devastata scoppiò in singhiozzi. Nessun belato rispondeva alla sua chiamata compresa allora che il lupo l'aveva preceduta. Ad un tratto la poveretta drizzò le orecchie dalla cassa dell'orologio proveniva un debole rumore e infine sotto la pressione dei piccoli zoccoli la sua porticina si aprì e ne uscì un capretto in lacrime che si precipitò ad abbracciare la madre raccontandole le astuzze del lupo e la triste fine dei suoi fratelli. La capra disse tra sé non deve essere andato molto lontano dopo una tale scorpacciata ingordo com'è può darsi ci sia una speranza di ritrovare vivi i tuoi fratelli. Afferrata la sua borsa per il cucito si diresse di corsa verso la finestra la capra non dovette andare lontano sazia sdraiata ai piedi di un albero la cattiva bestia si muoveva curiosamente con molta abilità la capra gli tagliò la pancia con un gran colpo di forbici il luco dormiva così bene che si mosse appena e non si accorse di niente. Con grande gioia della loro madre i capretti uscirono sani e salvi uno dopo l'altro dallo stomaco del lupo. Per ordine della capra essi portarono sei grosse pietre che furono poste nella pancia del lupo che fu ricucito alla perfezione. Corsero poi tutti insieme ad appostarsi sul parapetto di un ponte. Quando il lupo si svegliò fu preso da una gran sete. Appesantito corse verso la riva del fiume per bere. Si sporse ma trascinato dal peso delle pietre. Colò a picco e si annegò. I capretti e la loro mamma ne furono molto felici.